ben ritrovati sui nostri canali di acf fiorentina quest'oggi siamo tornati qui su tik tok con un grande ospite chiaramente come angelo oggi rolando mandragora benvenuto intanto come stai come va come ti insomma sei tornato dalle vacanze natalizie che poi insomma ormai sono passate da un po in realtà sì ciao poi insomma ormai sono passate da un po in realtà sì ciao buongiorno a tutti sì sono rientrato dalle vacanze purtroppo c'è stato un piccolo intopo sono fuori da da qualche giorno per per un piccolo sovraccarico al flessore sto lavorando per entrare quanto prima sto bene comunque sto correndo sono in campo quindi dovrei essere prossimo al rientro io voglio soffermare sempre su cose che magari non interessano a nessuno però a me sì io voglio sapere come è passato il natale perché te sei del sud sono saliti i tuoi genitori qui si è andato te giù a napoli insomma raccontaci un po queste cose fuori dal campo il natale l'ho passato in famiglia come come giusto che sia sono stato in famiglia sono andato io a casa a napoli quindi ho mangiato abbastanza dopo di che sono venuto qua il cristian petto ci ha messo sotto quindi come giusto che sia a natale sono stato in famiglia abbiamo mangiato ci siamo divertiti abbiamo passato delle delle giornate intense e belle in famiglia e niente adesso adesso siamo qua pronti e carichi torniamo alle domande serie si 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 no in realtà poi sono quasi più interessante quelle meno serie così per modo di dire anche perché parliamo sempre di calcio anche uscire un po dal calcio è quasi più divertente ma sì siamo più leggeri siamo leggeri comunque chiaramente anche parlare a parlare di calcio buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio orlando buon pomeriggio a te rossella io torno quindi sulla fase quella un po più tattica e di lavoro e ti chiedo che fiorentina hai visto ieri da fuori contro contro la santa ho visto ho visto sicuramente una prestazione ottimale diciamo che che quando si vince e la prestazione deve essere sempre importante perché altrimenti non riesce a portare a casa un un risultato importante come come quello di ieri abbiamo abbiamo trovato comunque una sandoria che è una squadra è una squadra difficile da affrontare e quindi niente siamo contenti della della prestazione del risultato perché passare il turno e vincere non è non è mai facile non è scontato soprattutto quindi siamo contenti e adesso ci prepariamo alla trasferta di roma e per fare per fare risultato anche lì e dopo di che penseremo poi di partita in partita per continuare a fare risultati e dare delle delle gioie nostre tifosi che ci seguono sempre numerosi anche ieri erano erano davvero numerosi quindi per noi motivo di grande orgoglio e soprattutto è un piacere avervi a fianco a noi ecco che effetto ti fa il il franchi pieno anche nell'ultima partita non soltanto ieri che era un giorno in fra settimana ma anche insomma mi viene da pensare contro il monza contro il sassuolo una cornice veramente incredibile di tifosi che hanno sostenuto la squadra quanto quanto emozione può dare da per voi che siete poi dentro il campo e quindi sentite veramente praticamente tutto all'estrema potenza sì sì tutto è tutto amplificato soprattutto quando siamo dentro io queste partite le ho visto da fuori e vi posso assicurare che è un grande piacere sentire il ruggito della fiesole e il ruggito di tutto lo stadio quindi per noi è veramente importante avere i tifosi insieme insieme a noi al nostro fianco perché poi li sentiamo come cioè come stiamo parlando adesso li sentiamo molto e quindi ci danno una carica ulteriore una carica importante per fare prestazione per fare risultato perché alla fine è quello che vogliamo fare tutti insieme abbiamo chiesto spesso angelo ma lui non ancora coro preferito cioè questa è una domanda un po' difficile perché poi è difficile riuscire a sceglierne uno però ti vogliamo mettere in difficoltà in questo momento te ne do qualcuno c'è bombe nell'aria quando scendono in campo i ragazzi io quello che amo ti interrompo subito è l'ino della fiorentina mi piace molto perché è il momento in cui entriamo siamo concentrati e comunque riusciamo a sentirlo dopodiché quando entriamo nel mood della partita è difficile sentire sentiamo che sono dalla nostra parte ovviamente che ci aiutano con grande voglia però è difficile comunque star concentrato a sentire quello che è carica anche l'inno secondo te? sì molto secondo me è carica così come è difficile naturalmente anche può sembrare una domanda banale ma vivere la partita da fuori chiaramente deve essere una sofferenza quando magari sei fuori per infortuna e non sei in campo sì sì è una sofferenza grande perché c'è l'adrenalina della partita che comunque è lì con te nel senso poi comunque andiamo nello spogliatore siamo con la squadra vediamo la concentrazione vediamo il focus sulla partita sul risultato che è una conseguenza e quindi abbiamo tutta quella adrenalina che poi non viene non viene cioè non viene scaricata non la sfoghi quindi è dura lo si vede un po' anche nel mister che è ex giocatore da poco e no macina veramente tantissimi chilometri infatti il mister la scarica abbastanza diciamo ci sta una grande mano anche con la voce sicuramente sì assolutamente è vero il mister la scarica macinando chilometri perché siamo fuori è difficile cioè non è soltanto in un qualcosa la scariciamo però comunque è diverso come è stato questo periodo di stop quindi un mese e mezzo di stop del campionato ci sono state diverse amichevoli però chiaramente non sono mai uguali come poi alle partite ufficiali quelle che poi veramente valgono il passaggio del turno o i tre punti è stata una una sosta un po' anomala perché comunque è arrivata nel nel mese di novembre o delle altre volte comunque ci siamo fermati in un periodo nel periodo natalizio però ci fermavamo per una o due settimane non c'è mai stata una sosta così lunga che io ricordo almeno da da quando gioco io quindi è stata un po' anomala e abbiamo dovuto fare una doppia preparazione chiamiamola così perché alla fine quando sei fermo per così tanto tempo comunque devi devi rincarare un pochino la dose anche a livello a livello fisico a livello tecnico tattico a tutti i livelli quindi è stata una una cosa abbastanza anomala e però così arrivate così ce la siamo presi scusami angelo voglio continuare a parlare della sosta perché sta esatto è stato il momento in cui anche tanti ragazzi giovani sono si sono aggregati insomma i vostri allenamenti e poi vi siete portati dietro anche durante le convocazioni e sono diventati proprio parte di questo gruppo della prima squadra come come la vedi questa cosa pensi magari a un orlando bambino più bambino no però più giovane ti avrebbe fatto piacere un piccolo roll sì assolutamente fa piacere perché l'abbiamo vissuto tutti in prima persona tutti quelli che sono qua hanno avuto un processo di crescita ovviamente ognuno l'ha avuto a modo suo ogni processo di crescita è diverso però vedere dei giovani aggregati che comunque fanno bene e vedo l'esempio di di Ale di Bianco che si sta allenando con noi dall'inizio dell'anno dal ritiro è stato lì ha lavorato tanto ha giocato ha giocato poco perché ha giocato poco però adesso che che il mister l'ha chiamato in causa si è fatto trovare si è fatto trovare alla grande quindi per per noi è un grande piacere è bello averlo lì con noi un bravo ragazzo lavora bene quindi per noi è è un grande piacere ve lo coccolate oppure lo coccoliamo e lo bastoniamo bastone e carota servono entrambi bisogna scontarne tanto però sei stata molto brava Rossella hai trattato dentro argomentazioni interessanti chiaramente sul settore giardie ma poi perché saranno anche il futuro della Fiorentina con la costruzione del Viola Park che poi sarà veramente la casa della Fiorentina ma anche dei giovani che potranno crescere quindi direi che anche questo è un fattore non da poco per un club sì sì assolutamente anzi poi facendo in quel modo cioè con la costruzione del Viola Park che il trasferimento al Viola Park anche noi avremo modo di vederli da vicino di viverli da vicino quindi sarà veramente una cosa allettante e importante voi che peraltro scusami Rossella siete l'esempio e chiaramente per i giovani poi date modo anche di crescere maggiormente a loro torno invece sull'argomento parlavi del lungo stop anomalo questo secondo me dà anche peso ai risultati che avete fatto perché insomma puoi tornare alla fine c'è stato sì il pareggio col Monza ma poteva finire anche diversamente poteva vincere anche la Fiorentina ma tutto sommato siete ripartiti bene e non era assolutamente scontato perché poi insomma da atleti ritrovare il tempo, il minutaggio, la benzina, tutto l'equilibrio insomma non è un fattore da poco neanche questo direi no no assolutamente anzi siamo ripartiti bene ed è importante continuare bene volevo dire che dà peso alle vostre vittorie dà peso assolutamente sì sì dà peso non era facile assolutamente partire come siamo partiti e soprattutto consolidare diciamo quello che i risultati positivi che abbiamo fatto verso la fine della prima fase di campionato chiamiamola così e quindi è importante avere questa solidità intesa come solidità di prestazione solidità di gruppo sono degli elementi importanti da cui partire e continuare a lavorare per far sì che questi risultati siano sempre migliori allora io mi stavo concentrando anche sui commenti e sulle domande che ci stanno arrivando allora Rolly guarda ci siamo la partita più bella del campionato di Mandragora fino ad ora con la Fiorentina metto la prima anche se è stato da subentrato perché il gol all'ultimo minuto contro contro la Cremonese e la curva sotto la Fiesola è stato un momento emozionante e unico finora per me bene bene poi ti salutano in tanti Ivan, Med, Lotta insomma ci sono tantissime ragazze ciao ragazzi vi saluto saluto tutti i ragazzi e ragazze bravissimo bravissimo allora torniamo un po' a quello che è il momento attuale chiaramente una Fiorentina che si ritrova in questa stagione ad affrontare tre competizioni tre competizioni importanti l'ha dichiarato anche il mister c'è tanta voglia di continuare ad andare avanti sia in Coppa Italia che in Conference League e poi chiaramente massima concentrazione per quella che è la classifica del campionato di Serie A assolutamente sappiamo bene di dover onorare tutte le competizioni sono tutte competizioni importanti competizioni che sono dei titoli alla fine se si arriva a vincere sono dei titoli quindi hanno un'importanza hanno un peso specifico e per noi è importante stare in linea con quelli che possono essere i nostri obiettivi e soprattutto dobbiamo recuperare qualche punto in campionato stiamo mettendo tutto l'impegno che possiamo mettere in allenamento, in partita per arrivare a recuperare qualche punto in campionato e ad ottenere quello che tutti vogliamo ottenere sia arrivare o nuovamente in Conference o addirittura in Europa noi vogliamo stare attaccati a quel treno quindi dobbiamo recuperare dei punti abbiamo le qualità per farlo quindi sta a noi io stavo pensando che non sei in viola da tanto però in realtà in poco tempo ti sei costruito sul termine credibilità ma in realtà è proprio il tuo carattere sei una persona molto equilibrata, in campo generoso sei in poco tempo diventato un senatore e forse anche questo non è il termine adatto però insomma ti ascoltano e sei un membro mai importante dello spogliatore ti chiedo com'è lo spogliatoio e com'è il gruppo viola? lo spogliatoio sta molto bene, lo viviamo bene, lo viviamo con serenità, con felicità e non è una cosa da poco perché arrivare al campo felice, allenarsi con grande gioia insieme a tutto lo staff non è una cosa da poco quindi è importante, è bello vivere queste cose e poi per quanto riguarda la parola iniziale con la quale mi apostrofato secondo me siamo 25, 27, 30 senatori ognuno dà il suo contributo ognuno dà il suo contributo a modo suo perché ognuno c'è una cosa molto soggettiva a me fa piacere che pensiate questo però siamo tutti importanti allo stesso modo guarda che bello Orlando, è emozionato direi ma a capire però in realtà quello che stiamo dicendo è entrato dalla grande ma proprio anche per il suo carattere e parlo anche del campo sei molto generoso ed è un aspetto fondamentale per quando poi si parla di una squadra e sei poi un esempio per gli altri diciamo che parlano chiaramente i fatti esatto diciamo che comunque sei entrato in un gruppo veramente molto solido fatto di ragazzi molto uniti grazie chiaramente al lavoro della società e anche del mister e tutto il suo staff che sono riusciti a creare un ambiente veramente positivo no no assolutamente infatti c'è grande empatia come ho detto prima arriviamo al campo tutti felici di lavorare di stare insieme quindi è merito di tutte le componenti della Fiorentina e quindi per noi è una grande felicità è un grande piacere io ho un'altra curiosità scusami Angelo quando andate in ritiro insomma e dovete andare in trasferta oppure insomma prima delle partite con chi sei di solito in camera con chi scherzi di più vogliamo un nome no sì ce ne sono diversi di noi perché come hai detto c'è grande empatia ci divertiamo molto però diciamo quelle che passo più tempo sono sono Cero Biraghi Ranieri ci divertiamo molto venuti ci divertiamo molto a giocare alla play a fare determinate sciocchezze che ci fanno divertire chi è il più bravo a giocare alla play? bella domanda al primo posto Ranieri dopodiché siamo un disastro tutti quelli a seguire siamo un disastro la peggione delle sciocchezze a questo punto o una delle sciocchezze non si possono raccontare quella non si possono raccontare noi ci proviamo tutte le volte torniamo serie Angelo e Rolando parlavi giustamente di gruppo di felicità da ieri con voi anche con Misto che vi coccola sempre no? sì sì è un piacere riavere il presidente qui con noi è una spinta emotiva in più perché quando l'abbiamo qui con noi vediamo la passione che dimostra ad ogni allenamento ad ogni partita quindi per noi è una spinta ulteriore ad ottenere risultati e soprattutto ad allenarci a giocare con grande felicità perché il presidente tiene molto anche a questo allora io direi che siamo quasi agli sgoccioli esatto e ti farei una domanda chiaramente sul prossimo impegno di campionato si va a affrontare la Roma di Mourinho tra qualche giorno cosa pensi di questa squadra a cosa bisogna stare più attenti e su cosa bisogna invece essere più concentrati ogni partita ogni partita ogni squadra ha determinate insiste sicuramente troviamo una squadra una squadra solita che difende molto bene che ha giocatori di grande qualità vedi Pellegrini vedi Di Bala vedi Abram vedi lo stesso Zaniolo che ha una grande forza affrontiamo una squadra con delle individualità importanti quindi sicuramente dovremo fare attenzione in entrambi le fasi e dopo di che dovremo fare il gioco che ci contraddistingue quello che ci chiederà il mister la preparazione alla partita che il mister effettuerà con tutta la squadra e quelle ci possono portare a fare una prestazione importante e speriamo anche un risultato più tanto importante a proposito dei prossimi impegni e poi ti lasciamo Fiorentina che ai quarti affronterà il Torino quarti di Coppa Italia poi ripartirà anche la Conference quindi siete chiaramente ancora dentro a tre competizioni cosa auguri alla tua Fiorentina per questo 2023? Sicuramente auguro di ottenere dei risultati rosei e delle prestazioni uguali allo stesso modo poi affrontiamo il Torino in Coppa Italia affrontiamo il Torino anche in campionato a stretto giro esatto per me è una partita speciale perché sono stato a Torino e sono stato davvero bene quindi è una partita che affronterò con grande piacere con grande emozione ma allo stesso tempo voglio fare voglio fare bene voglio fare il bene della Fiorentina nel bene di tutti noi quindi sono davvero motivato e quindi spero di rientrare per queste partite e noi ce lo auguriamo e lo auguriamo a te ti ringraziamo per averci dedicato questo spazio soprattutto ai nostri tifosi che poi hanno la possibilità di parlare anche con voi attraverso un telefono ma è un'occasione veramente unica che la Fiorentina insomma regala ai propri tifosi direi che sei pronto per spegnere la diretta da solo ok lì in alto a destra il pulsantino saluto ai tifosi quello lassù a destra di là giusto quello là che vede tu ok niente ragazzi vi saluto grazie a tutti per aver partecipato è un piacere condividere del tempo con tutti voi e niente ci vediamo presto allo stadio un abbraccio e forza Viola ciao ragazzi ciao a tutti vai vai metterlo alla porta vediamo grazie a tutti terminiamo